Il Paradisi delle Signore 8, come andrà a finire tra Matilde e Vittorio? Nella stagione 8, episodio 3, Matilde si avvicina a Vittorio per salutarlo. Immaginatelo mentre lavora a una grande scoperta. Alla fine deve affrontarla. Conti le assicura che lo scoprirà presto. La conversazione si trasforma in lavoro. Ma Frigerio e Conti sembrano usare pretesti professionali per dirsi di più, lasciando sentimenti che non si depositano mai tra le righe. È chiaro che non esiste un accordo facile tra le due parti nei settori della pubblicità, delle vendite e della strategia organizzativa. La moglie di Tancredi prese una decisione che Vittorio, da uomo di buona morale, non poteva fare altro che approvare. La prima priorità di Matilde era il matrimonio. Ma quale sarà il finale tra Matilde e Vittorio nel Paradisi delle Signore 8? Matilde Tancredi verrà tradita nel Paradisi delle Signore 8? Il paragrafo precedente riassumeva la posizione di Matilde rispetto alla sua sfera sentimentale. Ciò non significa che le cose siano in continua evoluzione. Matilde Tancredi verrà tradita nel Paradisi delle Signore 8? Conosciamo questo personaggio perché guardiamo le puntate della soap su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Ma Frigelio volta le spalle professionalmente al marito, facendo così uno sgambetto alla Galleria Milano Moda. Ma gli argomenti ipotetici sul tradimento in amore sono diversi. Dopotutto, non puoi comandare la tua mente. Matilde nutre una grande ammirazione per conti come imprenditore e come essere umano e per come è riuscito a unire le due parti. La prova è la sua analisi nella stagione 8, episodio 4. Umberto e Tancredi prendono in giro Vittorio. Come farai a rubare i clienti con l'idea di un grembiule? Guarneri crede di poter andare al Napoli non appena i suoi rivali saranno in mare. Matilde entra e sottolinea che non è un'idea stupida. Vittorio capisce perfettamente i suoi clienti. L'azienda mira a dominare la GMM senza competere direttamente con essa. Ottima intuizione sia dal punto di vista lavorativo che umano. Aspettiamo l'episodio o l'anteprima ufficiale prima di fare dichiarazioni specifiche. Ma da quello che abbiamo visto finora, non possiamo escludere la possibilità che Vittorio e Matilde soccombano alla passione che cercano di reprimere.